Arrivava dall'agronocerino sarnese, in modo particolare da Pagani e Sant'Egidio del Monte Albino, la droga che veniva poi smerciata in costiera amalfitana ed in particolare nel territorio del comune di Maiori, dove quattro persone sono state arrestate con l'accusa di aver messo su una fiorente attività di spaccio di cocaina. L'indagine coordinata dalla Procura, guidata da Giuseppe Borrelli, è scattata nel mese di settembre e ha visto al lavoro i carabinieri della Compagnia di Amalfi agli ordini del comandante Alessandro Bonsignore, unitamente ai militari del nucleo Cinofili di Sarno e del reparto territoriale di Nocere Inferiore, oltre che della Compagnia di Ascoli Piceno. Per tre persone sono scattati gli arresti domiciliari, mentre una quarta misura cautelare con obbligo di dimora riguarda un pregiudicato già rinchiuso nell'Istituto Penitenziario di Nizza per altri reati. La droga veniva rivenduta ad assuntori della costiera amalfitana, persone di tutte le età, giovani ma non solo, che avevano nei pusher il loro riferimento per rifornirsi di cocaina. È stata una serie di movimenti sospetti ed un continuo via vai da luoghi strategici ad insospettire i carabinieri che hanno avviato le indagini e scoperto così uno spaccio di cocaina che in media consentiva di guadagnare ai pusher circa 500 euro al giorno. Grazie a tutti.